Amici di Juventus News24, ben ritrovati, manca poco, manca pochissimo il ritorno in campo della Juventus e al debutto ufficiale di Dusan Vlaovic con la maglia della Juventus, proprio nella prossima, nella prima sfida dopo la sosta contro il Verona, c'è grande, grandissima attesa per il derby di Milano, ma non può che esserci altrettanta attesa, forse anche di più per il debutto di Vlaovic con la maglia della Juventus. Proviamo a analizzare la prossima partita contro il Verona in 5 punti, partiamo proprio da Dusan Vlaovic, il colpo da 90 del mercato di gennaio della Juventus, è arrivato per spostare gli equilibri e soprattutto per dare quei gol che sono mancati in questo inizio campionato ai bianconeri. La domanda però è duplice, dove giocherà Dusan Vlaovic? Ma lì è piuttosto semplice rispondere, giocherà al centro dell'attacco, quel ruolo di centroavanti che molto spesso non è stato ricoperto, è stato ricoperto con difficoltà voi da Dybala, a volte da Morata e dallo stesso Ken. Ebbè, il ruolo di centroavanti, Juventino finalmente ha trovato un padrone e quel padrone è Dusan Vlaovic. Dovrebbe giocare dal primo minuto? Ci aspettiamo di sì, se ha allenato bene i segnali che arrivano dalla continassa negli ultimi giorni sono positivi, quindi ci aspettiamo Dusan Vlaovic dal primo minuto contro il Verona, ecco, da capire a fianco di chi. Quindi, molto probabilmente di Morata, anche lui si è allenato molto bene, un punto di domanda legato a Dybala, perché è rientrato dall'Argentina, non ha giocato tantissimo, ma ha giocato, c'è il viaggio intercontinentale, ieri ha già lavorato in campo alla continassa, quindi diciamo che a livello di condizione c'è, ecco, dovremo capire se Allegri magari preferirà dargli un rientro un pochino più soft dalla panchina, quindi in questo momento se dobbiamo sbilanciarci su due attaccanti, al momento andiamo su Vlaovic e Morata. Il secondo punto è la trappola Tudor, perché ci ricordiamo molto molto bene come è andata all'andata. Una partita che il Verona ha dominato, una partita in cui il Verona ha corso il doppio, se non il triplo, di una Juventus che doveva ancora forse orientarsi nei nuovi meccanismi di Allegri, un Verona che ha dominato e che ha vinto con due gol di Simeone, buona notizia per la Juve, Simeone non ci sarà, è squalificato, quindi insomma un'arma in meno per Tudor, Tudor che conosce molto bene la Juventus e sa preparare molto bene, soprattutto questo tipo di partite contro le grandi, abbiamo visto un Verona che in questo inizio campionato ha fatto delle grandi cose, e quindi non va sottovalutato, ma secondo me dalle parti della continassa nessuno ha intenzione di farlo, nel Verona per quanto visto l'andata e neanche Igor Tudor, un allenatore che la Juve la conosce molto molto bene e da vicino. Un altro punto sul quale si può discutere il sistema di gioco, perché chiaramente con Vlaovic le cose cambiano in attacco, ma è tutto l'equilibrio di squadra che potrebbe risentire in positivo chiaramente dall'arrivo del servo, e quindi Allegri su quale sistema di gioco punterà? 4-3-3, 4-4-2 o magari quel 4-2-3-1, che secondo me poi diventerà il sistema di gioco di riferimento strada facendo, una volta che poi Vlaovic entrerà in pianta stabile nei meccanismi bianconeri. Difficile rispondere, bisogna capire anche bene da quali saranno i giocatori a disposizione, ad esempio mancherà Alexandro fuori per il Covid, c'è emergenza a centro campo con Locatelli squalificato, ma ne parleremo più avanti. Allora, sulla base di questo Allegri potrebbe puntare sul 4-2-3-1, con tanti trequartisti a supporto di Vlaovic, oppure magari un 4-4-2. Il 4-4-2 è un modulo più standard, più base, più scolastico, che la Juve conosce bene. Vedremo quale delle soluzioni proverà, c'è anche l'opzione 4-3-3, ma in questo momento secondo me il modo di riferimento per la Juve diventerà poi il 4-2-3-1. Vedremo se contro il Verona Allegri proverà già a puntare su questo sistema, oppure si affiderà al 4-4-2. Un altro elemento da considerare è il rientro dei nazionali, perché molti sono rimasti qui alla continassa ad allenarsi, ma molti altri invece sono rientrati da fatiche internazionali, e a questo proposito c'è una notizia dell'ultima ora che riguarda McKennie, e la leggiamo anche in descrizione se volete approfondirla, su Juventus News 24, perché l'americano è rimasto bloccato a New York, il suo volo è stato cancellato, e quindi rientrerà in ritardo alla continassa, era già tra gli ultimi a rientrare, sono già rientrati Quadrado, è già rientrato Di Bala che ha messo già un allenamento, blando chiaramente, nelle gambe, però questo potrebbe dare qualche indicazione in più, volendo sbilanciarsi sulla probabile formazione difficile, molto molto difficile aspettarsi McKennie in campo, almeno dal primo minuto, visto che rientrerà proprio a ridosso della partita. Un punto di domanda legato a Di Bala e Quadrado, vedremo se avranno smaltito le loro fatiche, però insomma i due sono utilizzabili, su McKennie invece è molto molto complicato, che possa giocare almeno dal primo minuto. Un altro elemento di analisi è l'emergenza a centro campo, perché chiaramente Locatelli è squalificato, Bernardeschi non è al 100%, sta proseguendo il suo lavoro a parte, come da programma, insomma non ci sarà, molto probabilmente non ci sarà nemmeno Bonucci, che oggi rientrerà ad allenarsi in campo con i compagni, ma sarà risparmiato contro il Verona, e quindi a centro campo c'è un certo tipo, un certo grado di emergenza, ricordiamo anche che Bentancur è andato via, quindi non è più a disposizione di Allegri, vedremo se Allegri approfitterà per lanciare dal primo minuto Zaccaria, ha pochi allenamenti nelle gambe, qui alla Continassa, lo Svizzero, però potrebbe essere magari la partita giusta per pronti via a lanciarlo subito e vedere cosa può fare. Lo capiremo dalle parole proprio dello stesso Allegri in conferenza stampa, alla vigilia magari scioglierà qualche dubbio su Vlaovic, ce lo aspettiamo in campo, su Zaccaria lì vedremo se sceglierà lo Svizzero, magari opterà per Rabiò o qualche altro giocatore. Ecco, questi sono i cinque punti più importanti verso Juventus-Verona, la partita di Vlaovic, la partita dopo la sosta, nella quale la Juventus deve vincere per cercare di colmare il gap e risalire la classifica guardando l'Inter.